per ragazzi per ritrovati in questo nuovo video siamo subito in diretta con Andrea Palocchi Long Beach per sessione di qualifica mancano poco più di due minuti prende la scia per andare a recuperare quei tre decimi che lo separano dalla pole position che lo separano dalla pole che in questo momento detiene il Fabris vediamo in diretta tutti i dati eccolo il nostro Andrea che attacca le curve manca un minuto e tredici ma ormai sarà convalidato qui a Long Beach vediamo se riesce a beccarla questa pole position che aveva perso in quel dilema e poi finito in catastrofe per il nostro caro amico Andrea o differenza miglior giro 2 14 vicinissimo vicinissimo attenzione perché vi faccio vedere i tempi Andrea è a tre decimi e tocca ancora una volta il fantozzi di parma 6 cavolo quando migliori vediamo qui riesce riuscirà vediamo riesce si mancano 20 secondi glielo convalida no e non migliora non migliora e va ancora l'attacco dai seguiamo questo secondo giro dritto ed è finita per Andrea ci vediamo in gara ragazzi e andrei indietro mamma mia drive thru anche a me oh no quanti secondi quanti secondi quandicesimo solo mi mandai box a me no più 5 secondi a me drive thru e devo andare in box godo ma no ma no un po' da dritto eh devo accelerare come un pazzo gara compromessa solo te eh io sono 16esimo che buono eh su 30 ma devi entrare per forza adesso buono ma non sai più 5 secondi eh no no c'è scritto drive thru e basta entrare nella ma cos'hai combinato eh ho accelerato troppo bene ero a 120 quando hai scattato il verde vabbè io ci vado adesso eh ragazzi si paga si paga si paga pegno perché ho accelerato troppo presto ci sta vediamo se riusciamo mi passi sicuro Andrea quanto sei non so eh sono 14esimo no 11esimo 12esimo Andrea eccolo qua mi ha passato più 5 secondi quindi devo essere dietro di te a meno di 5 secondi dai 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 che lunga sta corsia 18esimo mamma mia arrivano tutti a bomba poi a quattro la tetra ventun secondi ah ventunesimo o ventosecondi? si ventesimo adesso eh l'ho un po buttato fuori non è il mio stile però non è il mio stile buttare fuori gli altri però va a due e l'ora ho preso il muro mamma mia arrivo andrea ne arrivo vai bella ginetta oh cazzo ok gara finita ma che cosa è rotto? no sono andato lunghissimo ho pensato di potermi fermare ah vabbè ho frenato alle 300 yard fai impegno come ho pagato io eh si vabbè adesso penso sia veramente impossibile sono a 31 secondi tutto è possibile poi io c'ho sempre che c'è che c'è un po' di no ecco come questo qua per esempio eh vedi qual è il bello di bella cosa qua non sai lì tirare da solo eh si lo so eh lei è giusta eh ragazzi cioè lei è il 50% si e l'aggressività però lei l'hai abbassata giusto? si però male se no si vedi c'è l'ingegnere che ti dice dai dai l'ultima spinta dai che ce la fai la fatti strada si è una figata il mio dice eh settore veloce e cavolo però c'ho quello davanti qua long beach è complicato eh superare eh si no vabbè l'ultima curva se la fai bene gli altri ti devi buttare dentro eh però non mi piace andare a toccarli perché se no 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 ti butti dentro l'ultimo proprio se la fai cioè non molla sto bastardo eh che posizione sei? quinto quinto mamma mia si ma stanno facendo la fattiva della madonna te lo dico eh vabbè si è girato no che è? eh c'è un motore che si sta spredando figa che palle eh io ho fatto un errore mi sono girato ho ricaduto in 27es è possibile che succede? eh eh c'è un motore eh te l'hai messo i danni meccanici che vuoi? no 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 per la qualità vedi io so che sono andato grave ma tu le palle corse ho cercato di raggiungere su 97, 99 dai ciao ma la seconda volta mamma mia che sorpasso ragazzi mamma mia eh però vedi una qualche toccatina di troppo eh sì sì che è il reggiatore il proprio reggiatore ciao si perde il motore mamma mia sto sudando per 9 posizioni sto sudando una cosa incredibile 29esimo no sono 18esimo ma ti sei ritirato tu no sono qua alla tutta ultima curva non ho più gomma non ho più gomma ragà mamma mia ma devo aver rotto qualcosa perché la direzione non è più la stessa non è che io c'è l'uomo qua a meno guarda c'ho le gomme in sofferenza Andrea c'ho le gomme in sofferenza non è vero eh te lo dico io allora aspetta dai no 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 buttati buttati l'esterno buttati l'esterno bravo mi chiamo un altro giro veloce è fuori fa forza è che puoi dire scia è giusto è giusto è giusto non so uffa la giuncciotto che bello dai mi piace eh sì eh cioè pure che l'otto per la decima posizione però onestamente no ma stai lottando contro la gara eh sì eh ma non è che beh ecco mi sa bene fatto ti hai chiuso la porta però vedi che ci si allarga non so eh è lui che mi è venuto addosso top 10 ragazzi dai che prendiamo un punticino dai dai fine con il bocola eh è seconda gara è seconda gara è seconda gara che mi dicevo per il moto comunque il freno così della club sport mamma mia guarda prende benissimo si è toccato no 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 all'esterno davvero dura oh non mi lascia passare è un po' sporcaccione eh sì sono sporcaccione oh e stranamente guarda che a me si vada molto bene adesso magari non mi muovo il massimo di d'alto no no devi far vedere quanto sei pulito e magari stasera non so ah sì stasera perché mamma mia che sorpasso poi alla fine sto long beach non è male con la ginetta poi ma no no si hai spinto la gara ah spinto la gara si sesto sesto bene ragazzi dopo questa gara sporcacciona non è finita si finita dopo questa gara sporcacciona ringraziamo Andrea per aver partecipato un abbraccio a tutti e se la gara non vi è piaciuta lasciate un like se vi è piaciuta lasciate un like un commento ci vediamo alla prossima e ricordate iscrivetevi tanto è gratuito da Fabrice e Andrea ciao alla prossima ciao ragazzi ciao